In questo mese ho lavorato molto forte, perché volevo fare meglio che Chiba, ma ho vinto una medalla di bronze. Sono felice per la mia performance, ma non sono felice perché ho vinto sempre il bronze. Voglio vincere almeno il silver o il gold. Ho ricevuto un gioco nel primo gioco. Ho vinto una ronda di 16 contro il ragazzo japanese. Dopo la quattro finale ho vinto un gioco con Tortosa, che è molto forte. E sono felice per aver vinto. Nel semifinalo sono felice per la mia performance, perché ero attaccato. In mio opinione ho fatto meglio che Chiba. Ma voglio solo il risultato, perché ho bisogno di una medalla diversa. La prossima settimana ho una competizione in Cina per i giocatori militares militares. E dopo che ho avuto una competizione europea in Bari, in Italia, in mio paio. E posso dire che ho giocato a casa, perché Bari è vicino alla mia città. In cui vivo. E voglio fare meglio in queste due competizioni. E queste competizioni sono preparazioni per la Gb final. In cui spero di vincere un altro medal. Grazie. 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 Grazie.